C'è chi ricorda che la situazione della discarica di Trani era monitorata da alcuni mesi dall'ARPA. Segno evidente che qualcosa non andava, tanto più dopo le verifiche effettuate un paio di mesi fa, al termine delle quali erano state accertate alcuni dati fuori norma rispetto ai limiti di legge. Situazione che non sembra essere migliorata, visto che da questa mattina la discarica di Trani è stata chiusa e lo resterà per almeno 30 giorni. Decisione che porta la firma del dirigente Grandi Rischi della Regione Puglia a seguito delle segnalazioni dell'ARPA, l'Agenzia per l'Ambiente. Sotto accusa due pozzi di percolato, dal quale sono state registrate delle perdite, per fermare le quali non sono bastati alcuni interventi effettuati nelle scorse settimane. Il problema, con annesso pericolo ambientale, è rimasto e per questo è arrivata la decisione della chiusura, che fa scattare una emergenza per lo sbaltimento dei rifiuti. I camion, con quelli raccolti nell'ambito del bacino di competenza della città di Trani, al momento restano fuori dalla discarica, in attesa di conoscere una nuova destinazione, ma c'è da capire anche dove verranno conferiti i rifiuti provenienti dal sud barese, altro territorio alle prese con l'emergenza rifiuti, dopo la chiusura della discarica di Giovinazzo.